Il sindaco di Verbania Silvia Marchionini non ci passa su. L'assenza di Villa Taranto dallo spot televisivo prodotto dal distretto turistico dei Laghi, e in onda in questi giorni sui canali nazionali della Sette, è una mancanza di rispetto per il territorio, dice. Si rimane perplessi, afferma il sindaco per non aver saputo ricordare nel messaggio audio, assieme giustamente alle isole Borromee, i giardini di Villa Taranto. Se si devono esaltare... Se vuoi vedere tutto il video, abbonati alla nuova televisione online, è live 24 ore su 24.